Torna puntuale anche quest'anno il Challenge Trophy Marina di Pescara, giunto alla sua seconda edizione in programma al Porto Turistico, sabato 12 e domenica 13 ottobre. In gara le imbarcazioni della categoria Optimist con gli equipaggi in arrivo da tutta Italia. L'organizzazione della manifestazione curata dalla Lega Navale Italiana e dalla Camera di Commercio. Parola al presidente del Marina di Pescara, Riccardo Colazzilli. Non potevamo che ripeterci dopo il grande successo che abbiamo avuto al Marina di Pescara l'anno scorso con il numero zero, l'abbiamo chiamato, di questa grande manifestazione della categoria Optimist. Quest'anno ci ripetiamo, ci aspettiamo tanta partecipazione anche al di fuori della nostra regione come è successo l'anno scorso che abbiamo avuto tante presenze dal nord, dal sud e i numeri ci hanno dato ragione. Presidente, per chiudere, passando dallo sport all'aspetto più prettamente turistico e culturale, che stagione è stata quella estiva per il Marina di Pescara? Estatica che ha avuto grandi numeri. Sì, Estatica ha avuto grandi numeri, tempo a parte, abbiamo avuto qualche problema con il tempo che non ci ha premiato, però abbiamo avuto delle grandi presenze, abbiamo raddoppiato le presenze, perciò siamo molto contenti di questa grande kermesse che facciamo ogni anno, ormai siamo arrivati alla quinta edizione e speriamo di fare anche la sesta.